Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Island Clash Allora ragazzi miei, siamo qui in questa nuova hub, infatti è stata creata una nuova hub E sono qui con il mio fantastico e geniale Iron Golem che mi segue a livello 5 Non so nemmeno a che serve l'Iron Golem perché ovviamente come pet è un po' inutile Però mi segue ed è abbastanza carino quindi lo sto tenendo per me Allora, hanno fatto un paio di cambiamenti ragazzi in questa nuova versione Infatti se andremo qui sopra vediamo che è uscita la Conquest 2.4 Prima eravamo da 2.3, è uscita la 25 quindi pochi giorni fa E ha una nuova hub, una nuova currency che sarebbe l'essenza che probabilmente sarà utile nel prossimo futuro E diciamo è stato cambiato anche il tipo di messaggi, i player setting e sono stati fatti altri bug fix Quindi sicuramente in futuro vedremo altre cosette È stata aggiunta tipo il backpack che adesso ci permette di controllare bene i pet anche tipo dall'isola stessa E poi c'è credo anche la parte del tutorial, non lo so in realtà dovremo vedere questa cosa In maniera di fatto ragazzi che se andiamo in menu possiamo andare per esempio qui nel cargo Possiamo andare nel Conquest, nel momento non è ancora disponibile perché tipo si attiva dopo un totti ore Infatti se andiamo clicchiamo, a parte il fatto che ogni volta che clicchiamo in qualche parte C'è un piccolo villager che ci porta in automatico dove dobbiamo andare Infatti qua abbiamo il Conquest Il Conquest tipo si attiva fra 8 ore, adesso non lo vedo perché c'ho la gui troppo grande Ma si mette la gui tranquillamente normal, ok ho là, in sostanza Fra 2 ore c'è il Conquest e quindi possiamo fare questa conquista e cose del genere Tipo in sostanza è una cosa utile, fare dei soldi penso, un evento comunque in sostanza del server E potremmo andarci tranquillamente In ogni caso dobbiamo fare un sacco di cose per poter fare questa conquista per forza A parte il Conquest come vi stavo dicendo ci sono anche il cargo che andremo a vedere subito manualmente Perché non ho voglia nemmeno di farmi tutto il giro Infatti basta andare qui da Sir Chess Rail E con delle Kay che in realtà ho, infatti ho un sacco di Kay Tranne tipo questa del Dragon Cargo che è una cosa premium che non ho in realtà perché non ne ho idea E possiamo andare a cliccare qui sopra e potremmo utilizzarlo Mi sa che non ne ho manco una, vero? Ehm, sì, mi sa che non ne ho manco una Kay Possiamo vedere se dobbiamo recuperarne alcune Ma non credo perché effettivamente non ne abbiamo E ecco che abbiamo un sacco di cose, di task Credo che, sì, non abbiamo in effetti nemmeno una reward Infatti ne possiamo prendere le reward tranquillamente Le reward stanno qua, ok Abbiamo il voting, abbiamo quello daily Però tipo andando avanti dovrebbero essercene altre Ah, eccoci abbiamo, abbiamo le essenze Tipo tramite principe e queen E credo che sono queste le Kay Però si prendono ogni cinque giorni, oh mio Dio E insomma ci daranno cose Per esempio ho sbloccato delle piccole loot Ho piccato delle piccole pergamone che ci permettono di diminuire il tempo di creazione di alcuni edifici Però non è in comodo per recuperarli e tipo fare la banca nella mia isola Cosa che comunque è un po' complicata Qui abbiamo questo coso che ci insegnerà come giocare nell'isola Che è sostanzialmente il tutorial E credo che non ci sia nient'altro Tranne ovviamente l'isola che si può raggiungere tranquillamente O con l'omino che vi ho fatto vedere O comunque andando qui sotto Direttamente dal tipo Vi faccio, basta fare così Vi porta in questa nave carinissima che è qui Perfetto Voi ci entrate da qua Perfetto E poi vi fa andare sull'isola tramite questo click Insomma funziona poi come normalmente funzionava prima per quanto riguarda l'isola Ed eccoci qua sulla nostra isola Ovviamente sto facendo l'upgrade del logging camp Ma a parte questo ragazzi miei Ho anche messo un booster Infatti ho recuperato tramite sempre Alcune key Il booster per tipo recuperare oggetti Vi faccio vedere anche come funziona Nel senso se voi andiamo Per esempio nella mine Andiamo a fare teleport Possiamo recuperare tramite ovviamente Il tipo sempre solita Le solite cose A parte il fatto che Molto spesso ragazzi Dico ai player di non entrare Quando magari è sera Che c'è un sacco di player E invece qualcuno entra Periodicamente E mi fa perdere sempre il municipio Infatti adesso abbiamo di nuovo Il municipio bassino E guardate qui con il nostro harvest booster Ragazzi In sostanza recuperiamo Il doppio degli oggetti Tranquillamente Dura tipo 15 minuti Ora è già cosa di 5 minuti Per il momento E ovviamente abbiamo anche il duration Che dovrebbe proteggerci un pochetto Ma non so nemmeno in realtà Quanto ci proteggerà Anche perché abbiamo bisogno comunque Di fare altre cosette Nel frattempo stiamo recuperando Più roba possibile Perché vorrei comunque Avere il massimo degli oggetti Nel mio inventario Devo aspettare anche Che finisca il logging camp Così da poter fare anche quello Abbastanza velocemente Nel frattempo qui c'è il nostro golem Livello 6 Siamo recresciuti Do livello 6 già Va bene E andiamo qui nel warehouse E andiamo a lasciare La roba che ci interessa Qui dentro Abbiamo già fatto tipo Un botto di volte Le upgrade dal warehouse Ma stesso problema ragazzi Di solito Che effettivamente C'è la gente che mi da Che mi fa perdere sta roba Perché ogni volta Mi fa calare il town hall Però tranquilli Come ho già detto Il prossimo upgrade Dovrebbe in teoria Levare la possibilità Di demogradare il town hall E aumentare quindi Queste essenze Che saranno tipo Il modo più utile Per salire di livello Per il nostro town hall Quindi sarebbe un po' più carino Per alcune cose Io ho già la roba pronta Per la guerra Nel caso dovessimo fare una guerra Rimane il fatto Che voglio un attimo Aspettare qui Che completa il login camp Così recuperare un po' di wood E sperare magari Di costruire qualche altra cosa Però non possiamo costruirci La bank Che in realtà è la cosa migliore Che voglio costruire al momento Perché ci servono 300 wood 500 stone Cosa che non possiamo avere Perché dobbiamo forza avere Il warehouse al 2 Quindi non possiamo farlo Per il momento Direi di iniziare E di continuare ovviamente Con le cose strambe Tipo il wonder Non so che diamine sia In realtà E per esempio Con alcune altre cosette Mi sarebbe una tower Che potrebbe essere utile Ma Cioè Più o meno utile Per il momento Login camp completo Livello 2 Anche questo Adesso possiamo comprare Per esempio La stone ax Tranquillamente di qui Tanto abbiamo un sacco di soldi Qui non è che abbiamo Problemi di soldi Tranquillamente E possiamo recuperare Il torbo che vogliamo Frate 30 secondi Saremo pronti A essere uccisi Da tutti quanti Quindi Hey Potrebbe essere Un piccolo problema Vediamo se riusciamo In qualche modo A migliorare Per ora Il L'warehouse Con 150 Di Wood Va bene Proviamo a farlo Va bene Vediamo un po' Se riusciamo a recuperare Abbastanza wood Tanto abbiamo comunque L'harvest boost Ecco Infatti l'ha fatto Vabbè Non è un grande problema Buttiamo sta roba Che non ci serve ormai più Perfetto Andiamo velocemente A Building Andiamo nell'enchanter Tanto abbiamo tipo Wizard tower Ok Teleport E ci andiamo a comprare Un po' di roba Mi serve per esempio Protection 1 2 3 4 E uno sharpness Fottese che è del resto Ragazzi Perché devo comunque Per ora migliorare Quella roba Vediamo un po' Devo andare velocemente A warcamp Abbiamo ancora 40 secondi Perfetto Prendiamo 1 2 3 4 Questo E facciamo Sharpness Uno qua sopra Protection 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 Visto che sono anche solo Non so nemmeno quanta gente c'è dentro Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio Per non morire Almeno non subito Non posso mettere la roba nel warhouse Perché effettivamente non c'è adesso il warhouse E mi sa che Non Sì Non posso mettere su una parte Perché non c'è nemmeno la chest Quindi per il momento Ce la terremo questa roba Aspettiamo di fare la war E speriamo di non morire presto Perché effettivamente non voglio morire Comunque l'arvest come vedete si è bloccato Da un momento in cui hanno fatto la war Perché effettivamente è una cosa Un bonus Quindi si ferma quando viene attaccato In ogni caso Scopriamo assieme Quanta gente c'è nella war Spero non troppi Spero almeno due Cioè due Contro me va benissimo Lascio già gestirli meglio E poi con un sharpness Vorrei fare anche qualcosa di decente Ma se sono più di due ragazzi È un bel problema Quindi spero vivamente Che non sia troppa gente Oh mio dio Sembrano essere più di due Dice tre mi sa Eh Speriamo che non siano così tanti Sono nella merda Più totale anche E vabbè Sono cinque Ah no Dice attempting In realtà sono Tipo la possibilità di entrare in guerra E speriamo che non siano troppi Oh Non sono riusciti a fare la guerra Mi sa che o sono bloccate O tipo C'è stato un problema In ogni caso Ci sono salvati Quindi non ci attaccheranno Non più In ogni caso Buon così Cioè meglio così In realtà Non volevo essere attaccato Allora ragazzi Ufficialmente tornato alla nostra isola Abbiamo avuto un po' di problemi Perché in realtà Da quello che ho capito Dal Dal capo del server C'è stato un problema Proprio con Alcune macchine Che hanno dato forfè E quindi tipo Abbiamo perso un paio di isola Perché più che averle perse In realtà Tipo non potevamo Accederci in nessun modo Perché erano proprio su quella cosa E ovviamente c'era la mia isola Lì sopra Abbiamo un show duration Di 15 minuti Quindi possiamo aspettare Che il warehouse Venga completato E completare un paio di cosette In questa Frazione di tempo Infatti possiamo Senza trovi problemi Andare a farci Un sacco di stone E un sacco di wood Perché vorrei ragazzi In qualche modo Tramite un booster Riuscire a fare Finalmente la bank Così da poter sbloccare Magari qualche Upgrade veloce E rendere tutto Un po' più carino Perché sarebbe anche Una buona cosa Credo che La mia roba sia ancora Dentro qua Io spero che Se no dai Devo rifarmela di nuovo Non voglio perdere altri gold Porca vacca Ok c'è già tutto Perfetto Quindi andiamo velocemente A farci questa cosa In off camera E ci vediamo Fra una 15 minuti Forse anche meno In realtà non so Quanto ci vorrà per la war house Ovviamente Quando mancavano 5% Per poter sbloccare tutto quanto Mi dichiarano guerra Ma porca cavolo Lo fate apposta Lo fate E vabbè Comunque ho Dello sapling Cioè Un po' di roba Che non so se Riuscirò a tenere Per dopo guerra E vabbè Spero che non mi Non mi rubano roba Perché se no È già un bel problema Comunque l'inventario È già pieno E pronto A far del male Ho un po' di frecce Ho un inventario Full protection Con una spada Con una filatezza Quindi in qualche modo Dovrei riuscire a resistere Sperando che loro Non abbiano Il Cristo Dio O la Madonna Messe insieme Perché effettivamente Capita molto spesso Che ci siano queste persone Qui in giro E io vorrei in qualche modo Riuscire a finire l'isola In qualche modo Senza dover morire Ogni volta Che voglio provare A metterci qualcosa Sovra Va bene Quindi speriamo Effettivamente Di riuscire A vincere questa battaglia Comunque per 30 secondi Dobbiamo iniziare Quindi ci vediamo Direttamente Detto la barca Diciamo Appena inizio alla battaglia Spero che non si ribughi di nuovo Ma non dovrebbe bugarsi Ah beh raga Uno contro uno Effettivamente Non dovrebbe essere Dopo un problema Spero che non si sia bugata La roba Come al solito Capita Spero di nuovo Spero di nuovo Per favore Ok E io lo massacro Di botte Ragazzi Ok Ok Loro mi attaccano Perché la maggior parte Crede che Cioè Io sa che io Sono VIP Quindi mi attacca Senzamente Questo è un bel problema E ora Morirai Come nessuno Non mi è morto I don't see you You never see me Ok Non mi vedrai mai Non mi vedrai Eh Wow No problem Ok ragazzi Allora dovevamo attaccarlo Dovrevamo sconfiggerlo E poi finire Finalmente la nostra cosa Spero di non aver perso La roba Che c'è un inventario Se non la rosico Come la merda Perché effettivamente Diamine Cioè Ok Allora lui ha una bella armatura E' molto più potente Però essendo da solo Difficilmente in 8 minuti Riuscirà a distruggire tutto Quindi Se riusciamo ragazzi Andremo a difendere Soltanto la parte centrale Che è quella più interessante Diciamo Così Non avere problemi Di nessuna sorta Comunque ho sempre l'X-Bow Cioè l'X-Bow Sì Ciao Crasher Royale Ho sempre il Bow Quindi non dovrebbe avere problemi Comunque come potete notare Ragazzi Effettivamente Hanno migliorato anche le tempistiche Ora funziona anche meglio Quindi Giro una nuova macchina L'idea migliore è fargli perdere Il più tempo possibile Per esempio L'ho fatto perdere un minuto ragazzi Mentre lui stava girando Solamente perché voleva passare Da me sinceramente Quindi questa è una buona cosa Perché così almeno posso Vedere dove va E seguire i suoi spostamenti Appena possibile Infatti vedete adesso Che sta qua ragazzi Perfetto Quindi adesso Lo colpisco Se riesco Ok Vediamo un po' se riesco Oddio La mia mira è pessima In realtà Però va bene Non c'è il punto di vista Perché Così Oddio Che pessima mira che c'ho Oh l'ho beccato La madonna E così almeno lui può distruggere altre cose Che noi Ok si interessa Però non interessa che il town hall Sia intatto Perché se mi distruggono questo Lì sono cavoli Quindi cerchiamo in qualche modo Di fare del nostro meglio Per non farci beccare Magari lasciamo perdere sta roba E dobbiamo attaccare In qualsiasi modo possibile Immaginabile Abbiamo 6 minuti ancora per difendere In 2 minuti non ha distrutto ancora niente Quindi non dovrebbe avere troppi problemi Ora andrà probabilmente Per logging camp O per il warhouse Credo più per logging camp Sicuramente Non so se ci fa giro Ah non credo Farà logging camp E poi warhouse Vabbè Sti cavoli Ragazzi Quasi finito Il nostro corso Comunque la guerra L'hanno riuscita a vincere In qualche modo Peccato che comunque Quel tipo fosse ancora più bardato di me Quindi ha avuto un po' di problemi In realtà Da questo punto di vista Però ehi Ce l'abbiamo comunque fatta Ragazzi Dovrei aver completato Quinto quanto Il nostro booster è finito Ma finalmente abbiamo Un warhouse più grande Dove possiamo metterci più roba Per la bank Come stavo dicendo Prima Ci serviranno ancora Un bel po' di cose Tipo 300 wood 500 stone Quindi non troppo In realtà Possiamo farle anche abbastanza facilmente Voi sincero Allora ragazzi Dovremmo avere abbastanza roba Per poter completare Anche la bank Dove andare velocemente Ho preso la fly velocemente Perché voglio Sistrarmi la cosa veloce Se no ragazzi Adesso ci attaccano E perdiamo la data Capo roba Non lo voglio in realtà Bank fatta Ok E oddio Ce l'ho No Ce l'ho 500 300 Ah 500 stone Diamine Ok Devo aspettarne altre Ragazzi Diamine Niente ragazzi Mi sa che questa puntata Finirà con noi Che cerchiamo di Tenere a bada I tipi che vogliono Lutarci ragazzi Sono tre contro di me Quindi devo cercare di fare Del mio meglio Ovviamente devo fare Del mio meglio Per tenerlo fermo qua Perfetto Oh merda 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 Sono troppi Sono troppi Ma porca merda Ovviamente L'altro ragazzo L'ho lasciato un attimo Qui al centro A tipo Sponare Spero che non muoia Wow Sa giocare molto molto bene Mi dico No E vabbè E niente ragazzi Ogni volta Se c'è questa cosa Io mi sono un attimo Un po' rotto E fighi Perché questa cosa Che mi spon Che mi vengono attaccare Ovviamente Non tanto Cioè molto spesso Per il loot Ma molto spesso Mi vengono attaccare Non tanto perché C'ho il VIP E questa cosa È una rottura di pari Ragazzi Che manco vi immaginate Perché Ovviamente Prima di avere il VIP E niente Magari me la gestivo Un po' meglio Vabbè Vedremo un attimo Come vuole fare Comunque Cerchiamo di fare Più kill possibili Almeno Velocemente Ah ma dai Non puoi vedermi Vabbè si può vedermi il nome In realtà E niente ragazzi Sono due contro uno L'altro Eh boh dove sta E quindi Ci perderemo tutto il loot Possibile non immaginabile Magari riusciremo a difenderci Dall'attacco Ma Cioè È palesemente Palese il fatto Comunque Riusciremo a perdere Questa war Che bello Ma più o meno Ce la stiamo cavando Comunque Tendendoli fermi Perché altro Sto tipo Ogni tanto non cade Non sa per quale motivo Sinceramente Comunque sto tenendo abbastanza Bada con l'arco Ho poche frecce Però eh Non so se ce la farò mai A resistere Per tutto l'assedio Però ci proviamo È boh spammer Eh beh Ti pareva Scusa mi sta attaccando Mi sembra al minimo Spammarti di boh Allora quello non può passare Così adesso Ok l'ho ucciso Ragazzi questo è morto quasi Oddio Oddio Ma è morto Ok morto Perfetto Ho mezzo cuore Regà Mezzo cuore Loro non hanno l'arco Quindi questo ci avvantaggia parecchio Sinceramente al momento E c'è anche Ancient Che sta dando un po' Di aiuto Ma in realtà non troppo Vabbè Proviamoci comunque Abbiamo ancora 2 minuti e 30 Devo difendere C'è ancora il nostro loot A meno 150 C'è quello che è rimasto In realtà ce lo teniamo E vabbè Allora questa è bella ragazzi Questo tipo è un po' strano Tipo dice Oh non so fare più OP Ma sto difendendo con l'arco È ovvio che ti spammo È minimo che devo fare Vabbè Vabbè È un po' stupido ragazzi In realtà Ok Will Oddio È morto quello E niente ragazzi Ok Siamo riusciti a vincere In qualche modo Cioè Non abbiamo perso in realtà E abbiamo ricevuto un po' di roba Ci siamo riusciti a fare comunque 100 Cioè 224 gold Che comunque è tanto Per 7 kill in realtà Buono l'arco ragazzi E va bene È nato niente male in realtà Quindi GG ragazzi Poteva andare peggio Peccato comunque Che dobbiamo recuperare comunque Di nuovo Le risorse Vabbè Quali le prenderemo nella prossima volta Ragazzi Per il momento io vi saluto Ne ci vediamo presto con un nuovo video Speriamo di vincere per la prossima puntata Da lì sia tutto Ciao ciao E al prossimo video